Mi dispiace tanto per i tifosi perché sono sempre molto caldi e molto calorosi quindi mi dispiace perché noi ci teniamo tanto e domenica non si è visto perché come hai detto te è stata una prestazione senza attributi quindi bisogna cercare di svoltare pagina e chiedo ai tifosi di supportarci perché abbiamo veramente bisogno di loro e di domenica di aiutarci perché domenica è una partita fondamentale, si può fare tutto però bisogna pensare partita dopo partita senza fare grossi calcoli perché in questo momento non è certamente il momento di fare calcoli perché la classifica non è delle migliori per la zona alta però io penso che bisogna assolutamente non mollare fino alla fine purtroppo è un campionato così che non puoi abbassare mai la guardia devi stare concentrato 90 minuti e concedere meno possibile all'avversario è normale che la maceratese è un avversario che dà stimoli perché è una squadra terza, dobbiamo ripenerci quello che ci hanno tolto all'andata perché abbiamo fatto una brutta prestazione all'andata almeno nel primo tempo quindi c'è tanta voglia di riscatto